Sensibilizzare i cittadini sul tema dello spreco alimentare, della riduzione e della produzione di rifiuti per modificare comportamenti mirati a stili di vita più sobri è l'obiettivo del progetto Non Scado, partito dal Parco Elisa Claps a Potenza e promosso da Lega Ambiente Basilicata con il sostegno dei fondi 8 per 1000 della Chiesa Valdese. Per l'occasione sono stati raccolti prodotti in scadenza da distribuire ad alcune case famiglia della città. Un modo per far capire al consumatore attraverso un piccolo gesto di solidarietà sia la quantità di cibo che altrimenti andrebbe gettata nella spazzatura sia come un rifiuto possa diventare risorsa. Il progetto si pone come obiettivo finale quello di creare una rete di scambio che mette in contatto la grande distribuzione della città di Potenza con realtà del terzo settore che si occupano di persone in difficoltà economiche per un servizio di approvvigionamento continuativo di prodotti alimentari in scadenza rimasti invenduti e scartati lungo l'intera filiera agroalimentare per ridistribuirli gratuitamente. Perché sprecare il cibo non significa solo buttare un prodotto nella spazzatura ma ha delle forti implicazioni dal punto di vista ambientale, sociale ed economico legate al lavoro che ci è voluto per produrre quel cibo, all'energia legata appunto alla produzione del cibo stesso ma anche ai trasporti quindi alle emissioni in atmosfera. Devo dire che insomma questa giornata ci sta riservando anche delle sorprese soprattutto con i più piccolini a cui noi facciamo fare dei giochi per capire diciamo quanto loro sono attenti nella vita di tutti i giorni a non sprecare cibo e ci rendiamo conto che a volte più piccoli sono più sensibili e più informati degli adulti ecco.